Effetto vernice che cola applicato ad una fotografia di ritratto in questo nuovo tutorial per Photoshop frutto delle fatiche di non solo Photoshop, benvenuti a questo canale che si occupa di post-produzione fotografica e fotografia creativa. Vedremo come arrivare a questo risultato, quindi partendo da una fotografia di ritratto, per applicare questo effetto che può variare di volta in volta in base alla fotografia. Grazie all'uso di pennelli che andremo a scaricare direttamente dal link che ho messo in descrizione. Scaricare e scompattare perché saranno in un file compresso. Dopodiché ci ritroveremo con un file abr, che sono l'estensione dei file dei pennelli, lo clicchiamo, trasciniamo, portiamo sull'icona di Photoshop e rilasciamo, cosa che io non faccio perché avevo già fatto prima, quindi non è necessario farlo. Poi ci ritroveremo con i pennelli, quando selezioneremo il pennello, con questa serie, che sono una scelta di 15. Quindi, parte da una fotografia di ritratto, ma non è obbligatorio usare un ritratto, meglio se c'è poca confusione intorno, perché abbiamo la necessità di isolare la figura. Questo per poi ottenere il risultato che abbiamo visto prima. Quindi dal menu selezionaci, spuntiamo soggetto e in teoria, con le versioni più recenti di Photoshop, potrebbe riuscire a fare una selezione della nostra figura centrale. Questo proprio se c'è poca confusione. In più, non ci serve neanche un'escessiva precisione, perché poi sarà una post-produzione che non richiede uno scontorno così perfetto. Copiamo, quindi modifica, copia e poi modifica, incolla, per avere questa selezione in un livello a sé stante. Eccolo qua, ce lo vediamo qua. Quindi qui possiamo spegnere quella che era la fotografia di partenza e iniziare ad aggiungere quelli che sono i passaggi che ci porteranno poi al risultato che abbiamo visto all'inizio. Aggiungiamo livello vuoto, quindi seconda icona in basso a destra. E adesso, dopo aver spuntato il colore nero come colore di primo piano, scegliamo un pennello e allora andiamo a cercare qua la tipologia di pennello. Adesso qui da me era già selezionato. Ci dovremmo ritrovare con una cartella, eccola qua, Free Sprite Photoshop Brushes, che cliccata in questa freccettina ci dà tutto ciò di cui possiamo disporre. Io avevo provato precedentemente con il numero 15, ma non si possono tentare anche gli altri che hanno delle varianti interessanti. Quindi lo dovremmo dimensionare perché abbracci un po' quella che è la parte orizzontale della nostra fotografia. Magari riduciamo o aumentiamo un po' la dimensione. Attenzione, attenzione a non essere troppo stretti perché poi non riusciamo a fare una bella cosa. Anche se andiamo un po' fuori, va bene lo stesso. Quindi iniziamo con un primo clic nella posizione in cui pensiamo che possa andare bene per arrivare al nostro effetto colante. Ecco che inizialmente ci ritroviamo in questo modo perché siamo in un livello a sé stante. Però se facciamo CTRL CLICK sulla miniatura vediamo che si seleziona la pennellata che abbiamo dato, prendiamo lo strumento sposta così non la vediamo più e attivando il livello della figura e cliccando la maschera di livello si dovrebbe creare quella apertura che ci serve perché si veda soltanto il pennello sulla figura. Spegniamo il livello della pennellata iniziale, questo per vedere che cosa sta succedendo. In questa parte qua dobbiamo recuperare il viso che al momento è nascosto dalla maschera. Quindi possiamo prendere un pennello normale, quindi rispuntiamo il pennello e questa volta ci andiamo a cercare un pennello sfumato normale, dimensione che ci permetta di lavorare in maniera abbastanza precisa e con il colore bianco di primo piano dobbiamo estendere questa che è l'apertura. Quindi iniziamo a dipingere letteralmente in quell'area che vogliamo che emerga. Ecco che il bello di questo gioco è sfruttare il pennello nella parte sottostante per ottenere la colata di vernice, mentre nella parte di sopra ci sta bene la fotografia intera così come era in partenza. Qua è uno scontorno un po' approssimativo, volendo si può fare anche in maniera più precisa e su quello ci sono altri tutorial disponibili per vedere come comportarsi. Quindi a questo punto abbiamo questa trasparenza, questi quadratini che vediamo qua indicano trasparenza e ci dobbiamo creare un fondo. Quindi attiviamo il livello sottostante, un livello nuovo vuoto e in questo caso io riempio con il colore bianco ma ognuno può fare quello che vuole. Nella finestra di aggiunta qui sotto, tinta unita, eccola qui, riempie con il bianco che avevamo scelto come colore di primo piano. Ok, per confermare ancora, per staccare un po' la figura, avere un effetto più elegante, più aggraziato, possiamo aggiungere ulteriormente un livello vuoto, questo per poterlo gestire separatamente, scegliere un colore con un clic sul colore di primo piano e magari andare a cercare qualcosa che ci possa stare, che possa combinarsi con quella che è la nostra immagine. Quindi io qua vado su un azzurro e vedo un po' che cosa succede. Ok, per confermare ancora con lo stesso pennello sfumato di prima, ma aumentando le dimensioni, ecco che potrò crearmi un cerchio sfumato al centro che potrà darmi il distacco e una certa eleganza in quello che è il risultato finale. Quindi cliccando adesso andrò a dipingere su questo livello che è sotto a quello della figura. Ecco che già abbiamo creato un piccolo sfondo, semplice ma efficace. Ci fermiamo qua, uniamo i livelli per salvare in formato JPEG, quindi almeno un livello unico livello, riusciremo a compattare tutto quanto e poter salvare nel menu file salva in formato JPEG che è legibile un po' da tutti. Vi ricordo che su uno solo Photoshop sono disponibili centiraia di tutorial per la fotografia e per Photoshop e con il clic che potete fare nei link che trovate nella descrizione sotto è possibile accedere a tutti i contenuti che sono stati pubblicati finora. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.